Nella provincia delle eccellenze enogastronomiche, dall'olio al formaggio, dal vino al cioccolato e della città con il più alto numero di ristoranti stellati in Italia, parte una nuova offerta di alta formazione, completamente gratuita. Il corso ITS EnoFood 4.0, esperto nel settore agrifood, enogastronomia, ospitalità e territori, si svolgerà a Ragusa nel bienio 2020-2022 per un massimo di 20 studenti. Il nuovo corso ITS per il settore agrifood è promosso dalla Fondazione Albatross di Messina e si svolgerà presso Forma Consulting, ente accreditato del capologo Ibleo che fa capo al gruppo consulting preseduto dall'ingegnere Carmelo Mezzasalma. È intervenuto il presidente della Fondazione ITS Albatross, Paolo Bitto, che ha sottolineato l'impegno profuso per portare a Ragusa il nuovo corso di alta formazione che prevede ben 2.000 ore di lezioni spalmate in due anni e con l'intervento di docenti ed esperti di rilievo. Interventi anche da parte del sindaco Peppe Cassì e degli assessori Francesco Barone e Giovanni Iacono. A proposito di diplomi, sempre ieri pomeriggio, sono stati consegnati gli attestati finali agli otto studenti che hanno seguito nel bienio precedente il corso ITS per l'esperto logistica che si è concluso nei giorni scorsi con gli esami. Emozionati e soddisfatti i neodiplomati, alcuni dei quali hanno già trovato uno sbocco professionale presso aziende locali, grazie proprio al livello qualitativo della formazione raggiunta con grande passione. Anche il corso ITS Enofood è una grande opportunità per i giovani e nasce dalla grande sinergia con lo splendido territorio Ibleo, ha dichiarato Paolo Bitto, presidente della Fondazione ITS Albatross. Un momento di alta formazione che apre la strada a vari sbocchi occupazionali in più ambiti e settori, permettendo di offrirsi al mercato forti della propria preparazione specialistica acquisita a conclusione del percorso, proprio come già positivamente è avvenuto con il corso dedicato alla logistica. Il percorso di studi è gratuito. Al termine, superato un esame finale, spiega Ernesto Turla, sempre di gruppo consulting e vice coordinatore del corso, si consegue il diploma di tecnico superiore con la certificazione delle competenze corrispondenti al quinto livello del quadro europeo delle qualifiche.